Il futuro dell'edilizia. Oggi martedì 21 febbraio 2017 all'NH Hotel di Parma ha avuto luogo il convegno di infoprogetto organizzato da Action Group Editore. Progettare e riqualificare l'edificio in pianto in chiave sostenibile. Questa la tematica principale del convegno ha visto la presenza di circa 300 professionisti tra architetti geometri ed ingegneri. Presenti al convegno anche molte aziende del settore. Le novità di quest'anno sono molteplici in particolar modo stiamo evolvendo in maniera costante tutta la nostra produzione quindi i nostri sette prodotti che abbiamo ad oggi a catalogo sempre aggiornati alla normativa vigente anche di quest'anno. In più siamo in procinto di lanciare un nuovo prodotto che avrà molto molto esclusivo che era appunto un design e delle caratteristiche tecniche nuove sul mercato. al momento non posso anticipare nulla, ci sarà appunto a marzo la data di partenza per questo lancio e da lì poi cominceremo a vedere questo nuovo prodotto. È un evento esclusivo dedicato esclusivamente appunto a questo prodotto nuovo. In più ovviamente daremo sempre risalto a tutto quello che è il nostro circuito, il vostro circuito di progetto dove stiamo riscuotendo costantemente dei feedback molto positivi da parte di progettisti, quindi architetti, geometri, ingegneri. Questo sarà una nuova occasione ovviamente per rafforzare maggiormente questo legame.